Pronti i lavori di rifacimento della facciata esterna dell'ospedale San Luca di Valo della Lucania. Gli interventi riguarderanno il lato pronto soccorso, la somma a disposizione di circa un milione di euro, a comprendere anche il rifacimento dei circa 80 bagni. Inoltre verranno sostituiti gli infissi, completato il percorso per la sala operatoria, interventi che fanno seguito a quelli conclusi per le 5 sale operatorie, la sala risveglio e l'ingresso del plesso ospedaliero. L'ospedale San Luca è beneficiario di altri finanziamenti che saranno investiti per potenziare la gastroenterologia, la neurologia, la cardiologia riabilitativa, neurologia riabilitativa e la riabilitazione.